Suor Teresa Veronesi è una scuola che c'è qui a Sant'Agata dagli inizi del Novecento e ha fatto tantissimo bene al territorio. Quando siamo arrivati con le scuole Malpighi nel 2021, perché l'abbiamo inserita nella nostra rete, abbiamo visto che mancavano dei laboratori. Vicino alla scuola c'era un centro giovanile ormai in disuso, abbandonato. Abbiamo chiesto al sindaco di metterlo a bando. È stato fatto il bando, solo noi abbiamo partecipato. Abbiamo preso in affitto questi locali che abbiamo ristrutturato e regalato di nuovo ai bambini per i laboratori, per degli spazi didattici, per degli studi di professionisti che lavoreranno con i bimbi e con i genitori. E siamo riusciti a fare questo grazie all'anima della scuola, che sono dei docenti incredibili e delle persone che veramente si dedicano ai bambini. Ma anche grazie a Lamborghini e a Unicredit che ci hanno aiutato a ristrutturare questo luogo, che è sia per i nostri bimbi, ma anche per i bimbi di tutto il territorio. Quindi speriamo che in tutte le periferie crescano questi luoghi dove degli adulti si prendono a cuore i giovani e i bambini che si affacciano al mondo. Agorà vuol dire piazza, il luogo dell'incontro, vuol dire la relazione, vuol dire scoprire l'altro, vuol dire non aver paura dell'altro. Infatti c'è l'agorafobia, cioè quando al contrario abbiamo paura della piazza e dobbiamo ritirarci. Ce n'è molta appunto in giro, c'è molta agorafobia perché siamo tanto abituati purtroppo a stare da soli. E qualche volta pensiamo di vincere l'agorafobia con lo schermo che ci mette in collegamento con tutti, ma abbiamo bisogno dell'agorà, cioè dell'incontro, della fisicità. E questo è un luogo bellissimo in cui non aver paura di incontrare l'altro, anzi aver desiderio e scoprire l'altro. Quella scuola la utilizziamo come laboratorio di scienza e laboratorio di arte e la palestrina a fianco viene utilizzata per attività di tipo motorio rilassante o per circle time, quando dobbiamo dedicarci alla gestione dei conflitti o anche soltanto a parlare insieme in un ambiente un pochino più ovattato e calmo. Al piano superiore con il pomeriggio proponiamo ai ragazzi alcuni gruppi che chiamiamo club dove i bambini per interesse si segnano nel club di scacchi, nel club di uncinetto piuttosto che nelle letture e possono fruire degli spazi al piano superiore e qua al piano inferiore appunto con la sala di scacchi, la sala studio oppure l'atrio dove fare appunto uncinetto. Alla sera si trasforma perché ospita il corso di psicomotricità, il corso di musica, il corso di inglese e yoga e tango per adulti e al sabato mattina con cadenza mensile un laboratorio con un esperto, uno specialista a tema. Abbiamo laboratori con l'arte, con la scienza, le abbiamo chiamate le colazioni in agora, il sabato di agora, quindi colazione con lo scienziato, con l'arte, con la musica e abbiamo realizzato un robottino con arduino che misura la temperatura che poi i bambini hanno portato a casa, quadri ispirati a Miro, aperto a tutta la cittadinanza e abbiamo fatto anche prima di Natale un laboratorio di autoproduzione per costruire da soli i regali di Natale con i bambini e le loro famiglie. È stato davvero interessante cominciare qualche anno fa con Never Ending Stories, è un territorio che si è aperto a una forma di inclusione che è quella linguistica, cercando di suggerire che l'utilizzo dell'inglese ci aiuta sia qui in Italia che anche magari fuori. E quindi questo ha dato un'opportunità, ha creato uno spazio così che al sabato mattina i bambini e bambine possano fare magari con i loro genitori un'attività diversa e da lì poi siamo partiti a cercare di generare altre idee e questa idea di Agora sicuramente è un'idea notevole che copre un bisogno della comunità. Siamo qui ad Agora molto contenti di farlo perché è un bel progetto, innanzitutto è un progetto frutto di un lavoro di squadra noi siamo consapevoli che da soli non si va da nessuna parte, bisogna mettere assieme gli attori del territorio e quando troviamo una progettualità come questa che genera valore per la comunità allora rendiamo il tutto anche coerente con la nostra essenza strategica di essere banca vicino al territorio. Quindi questo è una serie di progetti che abbiamo fatto, negli ultimi 15 anni abbiamo contato i 1280 e siamo molto contenti di poterli inaugurare oggi qui con voi. Noi siamo molto contenti perché dà la possibilità a noi come amministrazione di utilizzare un immobile che altrimenti era molto sotto utilizzato e quindi anche di intonitare dei soldi e in più di mettere a disposizione della cittadinanza dei servizi che prima non c'erano, educativi, di laboratori, aiuto ai nuovi genitori e quindi è un supporto delle attività che l'amministrazione non sarebbe stata in grado di dare attuando così quell'importante principio di sussidiarietà di cui tanto si parla e poche volte invece viene attuato. In più è importante sottolineare che nonostante sia collegata una scuola parificata che anche questo è importante perché attua il principio costituzionale della possibilità dei genitori di scegliere la propria scuola ma questa è una struttura che è a disposizione di tutti gli alunni, non solo della scuola parificata ma di tutte le scuole e quindi è un supporto veramente importante per tutta la cittadinanza.